Per SVSport, Francesco Saviozzi, oggi era una partita importante per ambo i lati, cosa hai visto in campo? Ho visto innanzitutto un campo pesantissimo, era difficilissimo giocare a pallone, ma siamo scesi in campo, abbiamo imposto subito il nostro gioco, è stata una battaglia e siamo riusciti a vincere. Oggi era una partita cruciale, la Cairese non ha sbagliato, finalmente vi siete avvicinati all'obiettivo? Piano piano, adesso pensiamo in partita in partita, non diamo niente per scontato, mettiamo il 100% in ogni partita, oggi era difficilissimo, siamo riusciti a vincere anche questa, adesso la prossima abbiamo il Brani, un derby, sarà difficilissimo anche quella, però ce la mettiamo tutta come sempre, 100%. Ecco, hai parlato appunto di derby, che tipo di partita vi aspettate? Una battaglia come oggi, loro comunque sono un'ottima squadra, hanno un potenziale davanti veramente, mettono in difficoltà qualsiasi squadra, noi facciamo come ogni domenica la prepareremo, in settimana, in allenamenti e poi andiamo in campo e diamo il 100%. Oggi un'altra prestazione importantissima, non hai segnato, ci sei andato vicino, segno che in questa Cairese ti stai trovando alla grande. Benissimo, ho un compagno di reparto che si sta rivelando un amico, oltre che un compagno, mi trovo benissimo, mi fa far gol, io gli ho fatto di fare a lui, ci intendiamo a vicenda e in due abbiamo fatto, mi sembra 39 gol, vuol dire che sono importantissimi per una squadra, in due fare già 39 gol è una roba, un punto avanti ecco. Poi sono stra contento quest'anno che riesco a fare qualcosa in più, mi sono messo a disposizione e i gol sono usciti, sono contentissimo.